Ciao a tutti, ben ritrovati qui su Pausa Caffè News. Un saluto a tutti da Max e torniamo alla stragrande con il gossip perché arriva la più grande novità della prossima stagione di Mediaset che riguarda tutte le varie prime serate speciali che vedranno uniti un paio di programmi di punta dell'azienda e sto parlando, sì, di amici e verissimo. Allo show, nato da una conversazione avvenuta da Pier Silvio Berlusconi e Maria De Filippi con soltanto l'intento di andare a celebrare gli artisti, grandi artisti tra l'altro nati e cresciuti, proprio all'interno del talent, stanno lavorando insieme le due conduttrici volti simbolo ormai, possiamo dire, di Canale 5, Maria De Filippi appunto e Silvia Doffanin. E quest'ultima, visto che ne stiamo parlando, ricordo che comunque è la compagna di Pier Silvio Berlusconi. A produrre il programma è fascino la società di produzione di Maria invece, De Filippi. Ma l'ultima novità a riguardo arriva proprio dalle prime pagine del settimanale Chi che va a riportare un piccolo grande cambiamento nell'idea iniziale dello show. Il ciclo di serate amici verissimo, previsto quindi non adesso ma in autunno su Canale 5, non saranno due ma ben tre. Come del resto auspicava Pier Silvio che verso Maria De Filippi nutre comunque un profondo affetto. Gli deve molto perché gli alza un sacco l'audience, oltre che avere di base di per sé una stima professionale veramente grande. E infatti dice, grazie Maria, avete fatto ancora una volta un lavoro straordinario. Amici è diventato molto di più di un programma televisivo di successo. E scrive così l'Ad Mediaset dopo l'ultima puntata del Talent che si è confermato egemone dell'Auditel. Amici è un evento nazionale, la più grande, la più importante factory dello spettacolo italiano. Ad amici si formano e prendono il volo le future star della musica e della danza. Un grande successo di Maria, di tutta la squadra. Un grande successo di Mediaset. Effettivamente, cari amici, come dargli torto? E sempre effettivamente noi vediamo tantissimi talenti uscire dai programmi ed effettivamente diventare famosi. È vero o no? Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.